Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di Come si disegna. Grazie per essere passati di qua. Se vi piacciono i miei video ricordatevi di premere su mi piace e iscrivervi per i prossimi video. Allora, oggi su richiesta di Joelle disegneremo Batman. Batman è un giustiziare della notte vestito da pipistrello. E per disegnarlo lo disegneremo un po' la testa qua centrale, lasciando un po' di spazio in alto perché avremo anche il mantello. Allora, cominciamo dalla testa. La testa avrà una punta, un'orecchia punta, la testa un po' arrotondata e poi fate la linea un pochino più lunga e poi facciamo l'altro orecchio. Questa volta lo facciamo un po' più appuntito e che scende dritto, dritto. e a questo punto facciamo una linea che entra così. Questa sarà il sopracciglio da uno dei due lati. Da quest'altra parte invece partiamo da questa parte dell'orecchio, così lo facciamo sembrare più un orecchio di un animale. Facciamo una curva e scendiamo anche qua. E arriviamo allo stesso punto. Ecco, finita questa parte, continuiamo con la testa. Allora, da questa parte qua, non continuiamo dall'angolo dell'occhio ma un pochino più in dentro e facciamo una linea così. Allora, dovete ricordarvi che Batman ha la maschera, perciò, a parte fare gli occhi come dei rombi, quindi fate due linee così, anche da quest'altra parte. Questo qua sarà un po' più piccolo di questo perché abbiamo fatto la testa a tre quarti. e facciamo una cosa del genere. Sotto gli occhi, seguendo questa stessa linea, facciamo il naso. Allora, intanto possiamo aggiungere qualche linea per far vedere che è molto arrabbiato. aggiungiamo una linea di questo tipo e poi, per concludere, facciamo il mento. Allora, qua abbiamo fatto questa linea, Batman ha la maschera, perciò faremo un mento squadrato che supera questa linea e che va da queste parti qua, quindi facciamolo. Qua potreste fare una cosa del genere per far vedere un po' di più che una maschera e adesso completiamo la testa dall'altra parte. E così abbiamo la testa di Batman. Potete fare una piccola linea agli angoli di questo mento e fare una bocca arrabbiata. Se fate una linea anche sotto, sembrerà ancora più arrabbiata. E potete fare un piccolo puntino per suggerire il mento. Ecco, quindi qui abbiamo il nostro Batman per iniziare. E adesso continuiamo con il mantello. Il mantello parte più o meno qua dal mento. Fate attenzione a non mischiare le linee così si vedono entrambe. Da questa parte facciamo una linea di questo genere. Ops, si sono spente le luci. E da questa parte invece facciamo una linea arrotondata. Adesso fate degli zigzag per riunire i due lembi del mantello. No, sono andato un po' troppo oltre. E qua abbiamo la testa con il mantello di Batman. Se volete, potete fare anche una linea centrale qua per suggerire il naso. Ma non è obbligatorio. E sotto il mantello parte il corpo di Batman. Adesso il corpo di Batman lo faremo piccolino. è un po' tozzo. Allora, facciamo una linea che unisce queste due estremità della cassa toracica e aggiungiamo le mani. Le mani anche qua saranno piccoline e tozze. Vi suggerisco di fare, vedete, una specie di triangolo che si va a chiudere in una punta. Quando arrivate più o meno a questa distanza facciamo da una parte facciamo il pollice. Dall'altra parte facciamo un indice. e facciamo solo due dita. Le altre due le faremo qua dietro. In realtà sarebbero tre ma ne facciamo solo quattro in questo caso. E qua abbiamo la mano di il braccio di Batman. Batman ha tanti accessori. In questo caso avrà una specie di mantello cioè di mantello di guanto e aggiungiamo anche magari delle spine. facciamo l'altro braccio uguale. Quindi di nuovo fate una specie di imbuto di triangolo. Quando arrivate alla fine fate prima un pollice poi si apre in un indice e poi aggiungete le altre due dita. Anche in questo caso avrà un guanto. Adesso nel petto di Batman aggiungeremo il simbolo di Batman. Quindi fate le due linee laterali. Facciamo prima la linea sotto. Ci sarà una punta una punta centrale e un'altra punta. Così. E adesso la testa del pipistrello. Quindi abbiamo fatto la tuta adesso ci serve fare la cintura di Batman. Batman ha una cintura super accessoriata. Quindi più accessori gli mettete meglio è. Qua facciamo dei pallini. Ne facciamo anche uno qua fuori. e poi tiriamo delle linee dai lati di questi pallini e la parte sotto facciamo una curva. In questo modo faremo la cintura accessoriata di Batman. Dall'altra parte per non fare tutto uguale potremo fare due pallini e un quadratino. Il quadratino sarà una borsetta qualcosa dove porterà delle bombette o qualcosa del genere e invece gli altri li lasciamo come abbiamo fatto nell'altro caso. Qua abbiamo la cintura accessoriata di Batman e adesso facciamo le gambe facciamo le gambe come se stesse correndo quindi facciamo una linea qua sotto più o meno a questa distanza facciamo forse è esagerato vabbè uniamo queste linee e facciamo il piedino poi tiriamo una linea dritta anche questa come le braccia che si chiudono e facciamo un piccolo piedino se fate una cosa del genere sotto sembrerà un po' meglio che il piede venga verso di voi ecco qua abbiamo fatto le punte ecco il nostro Batman e fatemi mandatemi i vostri disegni fatemi vedere come vi è venuto e ricordatevi se vi è piaciuto il video di mettere mi piace e di iscrivervi al canale e se volete dei disegni per sapere come si disegnano scrivetelo nei commenti ciao e alla prossima puntata e alla prossima